Salve a tutti. In questo video cercherò di spiegare in maniera dettagliata i concetti principali necessari per la lettura e l'interpretazione di un radiosondaggio. In particolare vi parlerò del diagramma SKUT, importante strumento che i meteorologi di tutto il mondo utilizzano per studiare le condizioni termodinamiche dell'atmosfera. Il radiosondaggio è un importante strumento per l'analisi delle condizioni termodinamiche dell'atmosfera. Ogni giorno alle ore sinottiche principali, mezzanotte, le 6, le 12 e le 18 UTC, vengono lanciati simultaneamente più di un migliaio di palloni sonde in altrettanti punti del globo, attraverso i quali si misurano temperatura, pressione, umidità e vento, dal suolo fino ai 25 km di altezza. I dati così ottenuti vengono inseriti su di un grafico, detto diagramma aerologico. Tra i più diffusi vi è il cosiddetto diagramma SKUT, logaritmo naturale di T. Tale diagramma è strutturato in questo modo, sull'asse delle scisse via la temperatura e sulle ordinate la pressione. I valori di pressione sono riportati in scala logaritmica. All'interno del grafico le isobare sono tracciate parallele all'asse delle X, mentre le isoterme sono inclinate di 45 gradi verso destra rispetto alle isobare. Le altre linee presenti nel grafico rappresentano le curve delle adiabatiche secche, le curve delle adiabatiche sature e le curve delle isotrometriche. Le curve della adiabatiche secche indicano come varia la temperatura di una massa d'aria insatura, quindi con umidità relativa inferiore al 100%, che sale verso l'alto senza condensare. Il gradiente adiabatico seguito da una particella d'aria insatura è detto gradiente adiabatico secco ed è pari a circa 10 gradi Celsius per chilometro. Ciò sta a significare che la temperatura di tale particella diminuisce di 10 gradi ogni chilometro percorso verso l'alto. Le curve delle adiabatiche sature o pseudo-adiabatiche mostrano invece come varia la temperatura di una massa d'aria satura, quindi con umidità relativa uguale al 100%, durante il suo modo di ascesa. Il gradiente eseguito da una particella d'aria satura, appunto il gradiente adiabatico saturo, è pari a circa 6 gradi per chilometro. La differenza di temperatura tra questi due gradienti, che è di ben 4 gradi per chilometro, è legata al processo di condensazione che libera calore, il quale rallenta il raffrendamento della massa d'aria in ascesa. Si tratta del calore latente di condensazione. La differenza tra i due gradienti la si nota bene graficamente con le adiabatiche secche che appaiono nettamente più inclinate di quelle sature. Infine abbiamo le curve delle isoedrometriche che uniscono, per ogni valore di temperatura e pressione, tutti i punti in cui la massa d'aria possiede la stessa umidità specifica. Prima di proseguire con la spiegazione del radiosondaggio, diamo un'occhiata all'estremità destra del diagramma. Qui notiamo una serie di barbette che ci indicano sia la direzione che la velocità del vento alle varie vuote. L'orientazione del vettore mostra la direzione di provenienza del vento, mentre le stanghette indicano la velocità. In particolare, mezza stanghetta corrisponde a un vento di 5 nodi, dove un nodo è uguale a 1.85 km orari, una stanghetta intera uguale a 10 nodi e un triangolino a 50 nodi. In ultimo va precisato che in meteorologia spesso le quote vengono espresse in livelli di pressione. Ovviamente una determinata altezza non sarà sempre uguale ad un certo valore di pressione. Alcuni esempi di livelli isobarici di riferimento sono quello di 850 etto pascal che corrisponde a circa 1500 metri di quota, quello di 700 etto pascal corrispondente a circa 3000 metri e quello di 500 etto pascal che corrisponde a circa 5500 metri di quota. Per la stessa località troverò due diverse altezze corrispondenti a 500 etto pascal di pressione in due momenti differenti e tutto questo appare molto chiaro se si analizza una qualsiasi carta di gioco potenziale. Andiamo avanti con la discussione del radiosondaggio. I dati raccolti vengono inseriti nel diagramma e tutti i valori di temperatura vengono congiunti a formare una curva, la cosiddetta curva di stato. L'altra curva, posta alla sinistra della curva di stato, è quella della temperatura di ruggiada o dew point. Il dew point rappresenta la temperatura fino alla quale occorre raffreddare a pressione costante, una massa d'aria, per portarla alla saturazione e quindi per farla condensare. Maggiore la differenza di temperatura tra la curva di stato e la temperatura di ruggiada, tanto più l'aria sarà secca. Al contrario, quando le due curve sono molto ravvicinate tra di loro, vuol dire che vi è molta aria umida nei bassi strati, vicina alla saturazione quindi. L'ultima curva che compone lo skew T è la TAP, che sta per theoretical air parcel e che indica l'andamento della temperatura con la quota di una particella d'aria ideale. Negli intervalli di quote o di pressioni in cui la TAP si trova alla sinistra della curva di stato, la massa d'aria viene considerata stabile, mentre dove la TAP è alla destra della curva di stato, la massa d'aria è instabile. Per comprendere meglio la relazione tra la curva di stato e la TAP, immaginiamo di seguire il tragitto che una particella d'aria, appunto la TAP, percorre dal suolo verso i livelli atmosferici superiori. Fino a quando la particella d'aria rimarrà più fredda dell'aria circostante, la cui temperatura ci viene indicata dalla curva di stato, questa risulterà più pesante e destinata a scendere verso il basso, sfavorendo dunque la convenzione. Una volta che la particella d'aria avrà raggiunto una temperatura superiore a quella dell'atmosfera circostante, quindi una volta che la TAP passa alla destra della curva di stato, allora, essendo più leggera, proseguirà il suo moto verso l'alto, condensando. Con questo meccanismo si originano le nubi a forte sviluppo verticale, le nubi temporalesche appunto. Il punto in cui la curva di stato interseca da destra la TAP rappresenta il livello superiore del CAP, anche detto LID, cioè lo strato d'aria stabile, all'interno del quale la particella d'aria rimane sempre più fredda dell'aria circostante, che impedisce la convenzione e quindi la formazione dei cumuli. Lo spessore e l'intensità del CAP possono essere facilmente individuati all'interno del diagramma. Il CAP va ricercato in tutto l'intervallo in cui la TAP si trova alla sinistra della curva di stato, generalmente tra i 1000 e i 4000 metri di quota. La sua intensità è uguale alla differenza di temperatura tra la curva di stato e la TAP laddove le due curve sono più distanti tra di loro. Non è altro che una temperatura e viene considerata significativa quando è superiore a 2-3 gradi Celsius. Lo spessore invece è quantificabile attraverso la distanza tra i due punti in cui la TAP rimane alla sinistra della curva di stato. All'aumentare dell'intensità e dello spessore del CAP diminuisce la probabilità che la convenzione riesca effettivamente ad essere innescata. Al contrario invece, quando la TAP si trova alla destra della curva di stato, maggiore è la differenza di temperatura tra le due curve e maggiore sarà il grado di instabilità. Ok, questa prima parte termina qui. Nel video successivo vi continuerò a parlare di altre importanti informazioni che si possono estrapolare da questo diagramma e come tutto ciò può essere sfruttato al fine di elaborare una vera e propria previsione. Arrivederci al prossimo video.